Ben ritrovati a tutti sul canale ragazzi, allora oggi voglio parlare di una cosa di cui secondo me nessuno sta parlando ma è una cosa di cui secondo me si deve parlare perché molti ritengono il mercato del Milan in entrata chiuso perché sta per iniziare il campionato perché sono arrivati tante persone, tanti calciatori e perché il Milan sta concentrato a fare le uscite io non sono d'accordo allora secondo me questa concentrazione del Milan nel fare queste uscite farà sì che un'ultima entrata non qualcosa di mirabolico ma qualcosina in entrata arriverà ancora e vi spiego come è vero che il Milan ha già speso quello che ha incassato con tonali è vero che il Milan aveva un budget che io vi dissi a inizio mercato prima della gestione di tonali deve essere intorno ai 50 milioni di euro 45-50 milioni di euro e che quindi adesso ne riparrebbero 5-6 sommiamo questi 5-6 però a quello che il Milan sta cercando di fare in uscita sappiamo che il Milan ha incassato mezzo milione da Rebic risparmiando notevolmente sugli ingaggi quindi neanche lo contiamo col mezzo milione ma contiamo che il Milan con la cessione di Rebic ha risparmiato 14 milioni di euro lordi di ingaggio quindi un ingaggio consistente, un ingaggio importante poi andiamoci a ammettere che il Milan con le uscite ha già incassato un milione e mezzo da Messias con un altro milione e mezzo che arrivava l'anno prossimo ma ne sommiamo solo uno e mezzo siamo già all'incirca con un budget di 6 milioni e circa 3 e mezzo dal prestito di De Ketteler anche se potrebbero arrivare poi veri soldi l'anno prossimo ma contiamo quelli che oggi entrano nelle casse del Milan andiamo a 9 milioni e mezzo le uscite non sono finite il Milan deve ancora piazzare Caldara deve ancora piazzare Orighi se arrivasse un'offerta per sale Makers potrebbe essere un incasso importante ma è difficile che arrivi c'è la situazione Krunic-Turchia che io ritengo ormai finita non credo che il Milan si privi di Krunic a 5 giorni dall'inizio della stagione poniamo che Caldara venga piazzato per un milioncino siamo a 10 e mezzo poniamo che Orighi, Orighi non lo puoi vendere a pochissimo quindi poniamo che 4, 5, 6 milioni di euro arrivi a 16 milioni capite che c'è un budget in più il risparmio di Orighi e dello stipendio mettiamolo e siamo a 20 milioni capite che un budget c'è, importante ma non vi ho fatto un nome importante che è Colombo che è quello che vuole uscire più di tutti e Colombo qualora esca a titolo definitivo sono 10 paperelle almeno 10-12 paperelle se vai in prestito vai in prestito e sicuramente vai in prestito come De Getteler con qualcosina che entra quindi sono 20-25 milioni di euro ricavati dalle cessioni senza contare Sare Makers capite che con 20-25 milioni di euro non resteranno a guardare e lì potrà arrivare o il centrocampista o l'attaccante ora la situazione dell'attaccante è più delicata perché per Taremi 25 milioni di euro potrebbero non bastare anche se con l'ingaggio di Rebiciori che avresti risparmiato tanto per Morata potrebbero bastare ma non so quanto il Milan sia convinto di queste operazioni mentre è molto più probabile che con quei 25 milioni di euro si vada a concludere il centrocampista in più che tutti stiamo chiedendo penso a Dominguez del Bologna o qualcun altro che ha in mente la società però capite che definire il mercato del Milan chiuso quando ci sono tutte queste possibili entrate economiche un po' qua, un po' là, un po' su, un po' giù è utopistico cioè il Milan sta facendo in questo momento quello che doveva fare lo sapevamo benissimo dopo il mercato di luglio che saremmo arrivati nel mercato di agosto con il Milan che avrebbe scusate si sarebbe concentrato nella fase di uscita del calciomercato quindi nelle cessioni ma questo non vuol dire che il Milan è concentrato nella fase di uscita e quindi l'entrata non farà più nulla vuol dire che una volta terminato il processo delle uscite il Milan con quello che avrà messo da parte potrà completare nei limiti del possibile la rosa non ci dimentichiamo Ballotoré che verrà sostituito praticamente a zero con il prestito di Calafiori se non con Bartesaghi della Primavera e sono altri 4 milioni vedete come vengono fuori i milioni se noi riuscissimo a piazzare tutti questi esuberi siamo a 25-30 milioni ora mettiamo che Orichi non lo vendiamo siamo comunque a 20 milioni cioè capite come lavorando lavorando le cose vengono fuori senza contare poi il riscatto di Messias un altro milione e mezzo che arriva l'anno prossimo l'eventuale riscatto di De Kedeler e lì non ne parliamo proprio il Milan non ha finito il mercato il Milan sta operando in modo corretto sul calciomercato perché chiaramente non può fare un altro investimento a perdere ma deve prima incassare sfoltire la rosa togliere gli elementi che non sono consoni al prosiglio della prossima stagione e poi rimpolpare quello che manca che secondo me è più importante il centrocampista che la punta è chiaro che però se usciranno il Giroud scusate se usciranno Orichi e Colombo arriverà anche la punta e lì vedremo se ci sarà uno sforzo se dovrà uscire Salemi Akers però c'è tanta carne a cuocere non pensiamo che sia finita perché Balloturé le offerte le ha e secondo me verso il finale di stagione capirà che è ora di andare via Caldara Caldara se non arriva un altro centrale può essere rientegrato non lo so perché Caldara ha dimostrato alla Spezia di non fare chissà che colpo su un allenatore nel senso che alla Spezia non ha fatto un'ottima stagione non vedo perché Pioli se ne debba innamorare da rivalutarlo non l'ha rivalutato in nessun amichevole Caldara tra l'altro prende uno stipendio di due due e mezzo ancora deve percepire dal Milan in questa stagione quindi è chiaro che il Milan ha tutto l'interesse di privarsene e su di lui pende questa offerta del Verona che potrebbe essere l'ancora di salvezza del Milan la situazione più abberrante tra tutti è quella di Orighi la Orighi è una situazione vergognosa perché mi raccontano essercele offerte dalla rabbia per me non c'è mai stato nulla per me nessuno si è mai interessato di Orighi io su Twitter faccio il giochino di a Real manca la punta chi è meglio di Orighi alla Fiorentina manca la punta chi è meglio di Orighi ma così tante squadre gli manca la punta ma nessuno pensa di Orighi perché non ha mercato perché è un giocatore che l'anno scorso ha dato l'impressione di essere un ex calciatore ha dato l'impressione di non valere nulla esattamente come quello che è stato pagato se non fosse per l'ingaggio vergognoso lo sottolineo ad ogni video l'ingaggio vergognoso che percepisce Divo Corighi per me non esistono offerte perché se ci fosse l'offerta araba lui sarebbe già in Arabia impacchettato avrebbe già accettato Sassori che deve attendere la Premier League non arriverà l'offerta della Premier League perché non ha più appillo Righi ce l'avrebbe avuto magari l'anno scorso non quest'anno quindi la situazione di Orighi è veramente preoccupante perché tra l'altro ha un contratto lunghissimo ma è quello perché poi magari qualche club ha anche chiesto informazioni senza arrivare alla trattativa ufficiale come il Milan ha fatto per frattesi cosa che qualcuno non vuole capire ma una volta che ti dicono che questo prende questa cifra e c'ha il suo contratto di questa durata sai già che quando andrai a parlare col calciatore troverai un muro e di conseguenza sei bloccato da quello la situazione di Orighi ragazzi è delicata è veramente una situazione vergognosa che io avevo descritto nel video Orighi e Rebic cronaca di un fallimento recuperatevelo è un video di inizio estate dove io dico non ci libereremo di entrambi però anche senza liberarci di Orighi quel budget 20 22 c'è e per il centrocampista bastano magari non passeranno per la punta ma per il centrocampista si quindi occhio perché il mercato in entrata del Milan per me non mi so dando una notizia ma un'opinione per me non è chiuso iscrivetevi al canale seguitemi sui social trovate i link Instagram Twitter TikTok in descrizione mettete mi piace al video condividetelo e attivate la campanellina delle notifiche sempre Forza Milan